e ovviamente se dobbiamo partire con gli Autobot non possiamo non partire con il loro leader ovvero Optimus Prime ho già accennato qualcosa di lui prima continua a darsi la colpa per aver allontanato Allspark da Cybertron anche se come ho detto era in una situazione veramente disperata in cui secondo me ha fatto l'unica scelta realmente possibile dice avevo così tanta fretta di allontanarlo ma cavolo facevi bene ad avere fretta questo voleva usare l'Allspark per riformattare tutti gli Autobot in Decepticon era un vero e proprio genocidio quindi meno male che avevi fretta cazzo meno male che non te la sei presa comoda quindi mi dispiace ma quello che ha fatto Optimus si ha avuto ripercussioni negative ma quello che voleva fare Megatron sarebbe stato anche peggio quindi assolutamente Optimus smettila di fare il Brian della situazione il riferimento è alla saga di Fast and Furious in cui il personaggio di Brian interpretato da Paul Walker continua a essere incolpato e a incolparsi per aver rovinato la vita ai Toretto nel primo film ma chiunque abbia visto il primo film sa che i guai Toretto se li sono attirati da soli non è stata certo colpa di Brian quindi anzi l'Iranche è peggio qui a meno che Optimus effettivamente qualcosa di estremo l'ha fatto davvero però vabbè comunque a parte questo la cosa veramente bella di Optimus in questa serie soprattutto nella seconda metà sono i suoi confronti con Megatron quello in cui innanzitutto quello bellissimo soprattutto in cui c'è Megatron che è ferito perché ha questa sbarra di metallo che lo ha trapassato Optimus comunque lo aiuta e c'è proprio tutta una collaborazione contro Scorponok da parte di Autobot e Deserticon che dimostra ancora di più come la loro guerra sia stupida insieme potrebbero fare grandi cose se solo qualcuno non fosse così accecato dalla propria sete di potere da causare morte e distruzione ma proprio ogni riferimento a qualcuno il cui nome inizia per M è puramente casuale sì come no comunque proprio beh appunto è bello ed è amaro e c'è Optimus che dice a Megatron tu continui a dire di volermi uccidere tra l'altro appunto Megatron impedisce a Scorpono di uccidere Optimus perché lo vuole uccidere di persona ma Optimus gli dice tu non mi hai salvato perché vuoi uccidermi di persona tu mi hai salvato perché sai molto bene che senza di me è la mia crociata ideologica come l'hai chiamata tu tu non avresti tutto questo potere tu basi il tuo potere sull'avere un nemico che in questo caso appunto sono gli Autobot quindi tu hai bisogno di me e questa è la grande differenza tra gli Autobot e i Deserticon e soprattutto soprattutto tra Optimus e Megatron Optimus potrebbe stare senza Megatron gli dispiacerebbe in questo caso perché un tempo erano amici ma lui comunque potrebbe starci tranquillamente mentre Megatron senza un nemico non può andare avanti e ne riparleremo dopo e appunto perché Optimus è migliore di Megatron perché è disposto alla collaborazione si rifiuta di ucciderlo in maniera vigliacca mentre i Deserticon fanno quello che vedremo più avanti invece Optimus dice io non uccido un nemico a sangue freddo cosa che in un momento diventa fin troppo stucchevole ovvero quando Optimus riesce a disarmare Megatron dando un calcio al suo cannone e buttandoglielo via poi gli punta la pistola alla testa e c'è Megatron che dice dai non hai il coraggio è questo che vuole la tua matrice no è una mia scelta io con questo atto orribile pongo fine a tutti gli atti orribili che farai in futuro e ok Optimus sta minacciando qualcuno disarmato ma sinceramente combattevate fino a un secondo fa secondo me quello era l'unico momento in cui Optimus effettivamente non eticamente era più che giustificato nello sparare comunque bello anche dopo quando lo sta picchiando però Megatron dice pietà pietà e Optimus si ferma perché non ce la fa infierire troppo sono disarmato e lì c'è l'unica cosa stupida di Optimus nella serie ovvero Megatron che piglia il cavo di Energon e lo mette KO fulminandolo che gli dici ma che davvero Optimus prende il suo capo da un cazzo di cavo strappato su dai non ci crede nessuno con Megatron poi che dicula la matrice dice che tra l'altro era stato bello tutto il discorso di Optimus il cui maestro che ne parliamo dopo appunto insegna a dire ah devi ritrovare te stesso devi tornare a essere un tutt'uno con la matrice tutto il suo percorso appunto nell'universo morto lì mi piace molto cioè Optimus che deve imparare ad abbandonare i suoi dubbi per poter affrontare Megatron poi comunque lo vediamo è un personaggio che è molto leale disposto al sacrificio per i suoi compagni contro Scorpon che più di un'occasione dice Autobot scappate lo trattengo io ma gli Autobot gli sono troppo fedeli per abbandonarlo questo è proprio cioè questo è Optimus Prime il leader carismatico che è seguito da tutti non perché ha fatto il lavaggio del cervello chissà che cosa ma perché è un qualcuno degno di essere seguito ed è sempre bello e poi c'è anche il momento tenero in cui gli viene fatto notare nell'universo morto che il suo cuore batte forte in particolare per un Autobot e vabbè su chi sia quest'Autobot ne parleremo dopo e ragazzi lasciatemelo dire Optimus innamorato è sempre un cucciolone quindi che dire Optimus qui promosso come sempre parlando di lealtà il primo che dice non abbandoniamo Optimus è Bumblebee che avevamo visto in versione molto cinica nella prima stagione qui ormai è diventato un vero Autobot tanto che nel terzo episodio si fa applicare effettivamente il simbolo degli Autobot sul petto ormai è diventato un Autobot a tutto tondo c'è anche un momento in cui durante l'attacco finale della sesta puntata è lui a coordinare un po' le operazioni e questo è un riferimento al fatto che grazie alla grande popolarità che Bumblebee ha avuto soprattutto grazie ai film ormai è diventato lui l'erede spirituale di Optimus in caso di morte di Prime il successivo leader degli Autobots sarebbe Bumblebee cosa che tra l'altro si è anche provato ad esplorare in altre continuità però comunque insomma non ha un ruolo elevatissimo Bumblebee più che altro va con Optimus a esplorare l'altra metà del relitto della nave appunto incastrata nella Nebulon cioè del ponte spaziale che porta a Nebulon e chissà perché vanno proprio Optimus e Bumblebee ovvero i due Autobot più famosi eh eh stranissimo comunque a parte questo funziona quindi che dire grande Bumblebee sempre nel cuore tutti gli altri Autobot a bordo dell'Arca non è che hanno tutto questo gran presenza scenica o cosa cioè nel senso hanno dei piccoli ruoli che sono anche coerenti e funzionali ma non sono molto approfonditi abbiamo Wheeljack che fa lì appunto i calcoli ogni tanto perché appunto è lo scienziato c'è Ratchet che aveva avuto un ruolo comunque abbastanza importante nella stagione precedente con la sua col suo centro di rifugio in cui vengono riparati sia Autobot che Decepticon qui invece semplicemente è uno dei tanti Autobot agli ordini di Optimus che più che altro spiega dove piazzare le cariche per far esplodere la nave messa nel ponte spaziale e dice che è una cosa che va fatta con precisione chirurgica il che ci sta per un medico Autobot però a parte questo appunto non è che abbia molto altro direi che il suo arco di evoluzione psicologica l'abbiamo visto nella prima stagione se ne stava per i fatti propri fuori dalla guerra però dopo appunto gli avvenimenti della prima stagione capisce che no qui bisogna recuperare l'allspark combattere i deserti con eccetera ma nulla di più ha già un piccolo ruolo molto più figo Mirage il quale a un certo punto per distrarre Scorponok proietta questo miraggio che raffigura Omega Supreme momento bellissimo non figo quanto il momento alla Naruto nella prima stagione guardate la recensione nerd di assedio per capire però comunque insomma è molto figo qui finalmente Mirage proietta Mirage e non si rende più invisibile come era in teoria come era nel cartone originale però comunque a meno lui qualcosina la fa molti altri fanno poco nulla Ironhide l'unica cosa che ha è dire a Bumblebee no no stai bene lì a dare ordine anche se comunque il posto principale sul ponte di comando non è né mio né tuo ma è di Optimus poi abbiamo Prowl Hound Sideswipe ecco già sì si vede un po' di più però non è che fa mai nulla di incredibilmente fondamentale all'interno della serie di per sé per carità sono tutti funzionali a quello che all'interno della storia però non hanno grande peso ecco funzionano comunque fa invece morire da ridere in senso amaro quello che hanno combinato con Kog che appunto nella prima stagione aveva questa modalità combo in cui poteva mettersi sulla schiena di Transformer come arma aggiuntiva quasi moriva lì e qui stavolta muore davvero viene colpito da Dysius e dice loro di non far saltare in aria la Fortune e poi sembra morire ma più che altro è sotto il controllo di Dysius appunto e fa ancora più ridere il suo ripainter rosso che da quel capito si chiama Comsoficer che non dice quasi una parola e viene semplicemente infilzato a morte per introdurre Scorponok fa molto equipaggio di Star Trek per chi seguiva soprattutto la serie originale io ho visto alcune puntate c'era il gruppo di protagonisti principali e poi le varie comparsi il cui ruolo era quello di scendere con i protagonisti e venire uccisi dalle forze ostili del pianeta tra l'altro il cliché era che i primi a crepare fossero quelli con le divise rosse e guarda caso Comsoficer è il ripainter rosso di Kog sarà mica un caso? probabilmente sì ma mi piace pensare di no quindi che dire alla fine tutti questi Autobot sono comunque promossi perché il loro lo fanno non c'è nulla di realmente sbagliato in loro ma è abbastanza evidente che i personaggi che si intendono sviluppare sono Optimus Megatron e un altro Autobot di cui parliamo adesso perché a parte quello c'è poco altro visto che ho citato Omega Supreme ma ne parliamo subito viene detto che non si hanno più sue notizie dalla battaglia di Crystal City quindi appunto dal finale della prima stagione non si sa se sia vivo o morto secondo me lo vedremo cicciare fuori nel finale della terza stagione e ho idea che farà un qualche eroico sacrificio per fermare Deserticon la butto lì e poi magari non succede però parliamo ora della resistenza su Cybertron resistenza che è comandata dall'Autobot per cui la scintilla di Optimus batte più forte ovvero Elita One che se nella prima stagione avevo trovato un personaggio carino ma comunque non tra i migliori in questa seconda stagione è diventato il mio preferito qui veramente Elita mi è salita tantissimo perché ora si trova lei con tutte le responsabilità di leader che prima aveva solo Optimus e si trova comunque costretta a prendere decisioni difficili deve stare attenta a non far scoprire i propri Autobot perché sono pochissimi e come dice lei stessa a un certo punto se veniamo catturati noi qui non verrà nessuno a salvarci perché noi siamo l'ultima resistenza e comunque dimostra di essere una vera Autobot una vera leader Autobot e la degna Forced Lady degli Autobot perché qui abbiamo Megatron che prova a portarla costantemente dalla sua parte ma lei rifiuta perché gli ideali degli Autobot sono molto forti in lei e fa un po' lo stesso tipo di discorsi che gli farebbe Optimus e fa anche lo stesso tipo di azioni che farebbe Optimus ovvero quando si accorge che ci sono dei Deserticon tenuti prigionieri dagli stessi Deserticon decidi appunto di liberarli perché loro sono gli Autobot loro non sono come i Deserticon e quindi per l'appunto fa così e si guadagna anche la lealtà di questi Deserticon e questo è molto importante perché ti fa appunto vedere che il modo migliore per vincere in una guerra paradossalmente non è distruggere ma salvare e tra parentesi non è morta alla fine vero? vero? perché cavolo in teoria dovrebbe essere l'ho esploso tutto e lei era dentro però cavolo mi dispiacerebbe un sacco che che Elita sia finita così più che altro perché ridendo e scherzando Elita One non è che sia mai riuscita a concludere con Optimus almeno nelle continuity che conosco io non so se magari in qualche frumento ci sono riusciti però veramente il loro è sempre stato un rapporto che si è chiuso tragicamente quindi sì Optimus Prime è un maschio che non riesce a cuccare oh mio dio collegamenti con altre rubriche comunque a parte questo sarebbe bello se almeno stavolta potessero stare un pochino insieme poverini fatele stare insieme almeno una volta vi prego poi già il redesign di questa Elita One mi piace ma l'avevo già detto nel video precedente la caratterizzazione appunto è molto ben fatta poi io immagino un incontro con Optimus molto sentito perché comunque Elita One rimanendo su Cybertron avrà anche visto quanto possa essere difficile combattere prendere decisioni da leader eccetera quindi insomma speriamo bene speriamo bene perché veramente a me questa Elita One è piaciuta da morire l'Elita One più caratterizzata che ho visto nelle varie serie oddio lo era anche in Animated ma lì era una cosa un po' singolare quindi è veramente non la conterei tanto quella Elita lì però era molto interessante ma un po' particolare quindi limitiamoci a questa e quindi niente se purtroppo questa dovesse essere l'ultima volta che vediamo Elita ne è davvero valsa la pena l'ho veramente adorata tra l'altro anche Elita prima ancora che lo faccia Optimus comincia a dire a Megatron ma guarda tu a te servono dei nemici tu senza di noi non sei niente quindi perché vedi proprio che i discorsi che fanno Optimus ed Elita sebbene non si incontrino mai in questa stagione sono esattamente gli stessi quindi è un altro modo per farti capire che i due sono veramente simili e compatibili dicono veramente le stesse cose sarebbe bello poterli vedere collaborare in maniera maggiore qualora Elita non sia morta perché ricordiamo che comunque nella prima stagione avevano dei confronti perché Elita non era sicura che Optimus stesse prendendo le decisioni giuste sarebbe bello vederli più riunificati nella prossima stagione se si vedranno assieme effettivamente perché è dura è dura è dura tra l'altro povero Optimus Megatron che gli dice Elita One è morta e lui è lì che sta malissimo o almeno probabilmente lo è cioè prima lo fai sperare dicendogli che è morta poi gli dici no non lo è però probabilmente sì mio dio torture psicologiche veramente terribili Megatron è un proprio Megatron bastardone per eccellenza comunque un altro confronto che Elita ha il confronto ideologico oltre che con Megatron è con Jetfire passato ufficialmente dalla parte degli Autobot dopo gli eventi della prima stagione che però ha ancora in sé qualcosa dei Decepticon nel senso che ha comunque un atteggiamento molto duro con i nemici continua a dire a Elita cosa che poi faranno anche i Decepticon e altri Decepticon ma sei sicuro di volerli liberare non dovremmo lasciarli lì a marcire non dico di ucciderli ma lasciamo lì tanto che ci frega pensiamo solo a noi e c'è Elita One che dice giustamente no noi non siamo così così non si fa eccetera tutto molto bello però io sinceramente il mio unico gruccio è ma nessuno fa notare a Jetfire che anche lui è un ex Decepticon e che quindi se gli Autobot avessero applicato con lui la stessa linea di condotta che predica allora Jetfire non sarebbe lì con loro effettivamente caro Jetfire se gli Autobot facessero come dici tu tu non saresti qui non saresti l'unico membro del team che sa volare e che riesce sempre a distruggere i Seeker per impedire che svelino la posizione degli Autobot quindi mio caro meno male che Elita non ti ascolta ma per carità anche Elita dice che non è sicurissima a un certo punto perché appunto i Decepticon hanno il grilletto facile però effettivamente però alla fine i fatti le danno comunque maggiormente ragione perché comunque si è guadagnata degli alleati un po' come no con Impactor che veniva salvato da Ratchet e quindi finiva comunque per allearsi con gli Autobot pur senza diventarlo qui vediamo questa stessa dinamica riproposta in una maniera un pochino diversa però che comunque a me piace come ho detto nella recensione senza spoiler il confronto qui il conflitto è soprattutto ideologico e verbale infatti i dialoghi di questa serie secondo me sono scritti molto bene anche se qui appunto manca quell'unica obiezione che chiunque dovrebbe fare a Jetfire che per carità per il resto il personaggio funziona così come funzionano anche nel loro piccolo Cromia Red Alert mi spiace solo che qui Red Alert si veda solo un secondino fare il medico ecco e avrei evitato la sua battuta quando dicono state allerta e lui io sono sempre allerta che in inglese è stay alert I am always alert perché si chiama Red Alert quindi è sempre alert non fa ridere non sono serio che battuta di merda è veramente facciamo finta di non averla mai sentita per il resto comunque vabbè c'è Cromia che è quella che spara da brava cecchina o picchia e c'è un momento in cui le sparano che loro li no non ditemi che è morta anche lei no fortunatamente ancora viva anche se quando esplode lì la base di Shockwave sembra che l'esplosione colpisca anche lei mentre sta fuggendo in forma veicolare non si capisce bene questa cosa tra l'altro è una delle poche trasformazioni perché qui a livello di trasformazioni ne abbiamo veramente pochissime ma ne avevo già parlato nella parte senza spoiler comunque i due personaggi in sé per quello che devono fare funzionano quindi non mi sento affatto di lamentarmi del gruppo di resistenza su Cybertron come detto non abbiamo visto Omega Supreme e non abbiamo visto manco Cliffjumper che avevamo visto per 30 secondi letteralmente nella prima stagione quando veniva diffuso un virus per tutto Cybertron e niente sembra che sia morto per la terza volta in una serie o meglio il problema non è tanto che sia morto per la terza volta ma che sia morto subito perché ricordiamolo in Transformers Prime crepa letteralmente nel primo episodio inizialmente lo dovevano uccidere alla fine della prima stagione ma poi l'hanno voluto uccidere subito per rendere il tutto più drammatico ma considerando poi gli sviluppi della serie era meglio ucciderlo alla fine della prima stagione e in Bumblebee lo vediamo affettato a metà malissimo dai due deserti dopo che è apparso appunto anche lì due minuti qui appare 30 secondi e probabilmente è morto pure qui ma basta ma poverino è diventato una macchietta ma dai poverino povero cliffjumper come ho sempre detto justice for cliffjumper non che vada molto meglio al povero Steel Joe perché dicono di aver ricevuto da lui un messaggio e subito dopo lo vediamo in forma appunto di cassetta cybertroniana diciamo così che sta venendo manipolato da Decepticon ormai morto per appunto trasmettere un messaggio che inganni gli Autobot poverino per carità non è un personaggio così fondamentale neanche nella serie non era così fondamentale neanche nella serie classica qui appunto serviva un gaffin per attirare gli Autobot in trappola hanno usato Steel Joe ovviamente se uno non è fan pensa che sia un nome così preso a caso però io che so chi è penso perché fargli una cosa del genere povero veramente povero Steel Joe però comunque è brutto da dire ma la sua è comunque una morte contestualizzata meglio di quella di Moon Race nella prima stagione che quella veramente non me ne capaciterò mai sinceramente però comunque insomma rest in peace Steel Joe chiudiamo con un Autobot che non è né sull'Arkan né su Cybertron ma è nell'universo morto ovvero Skylinks ora su Skylinks bisogna dire due cose numero uno il design è una merda è identico al design della G1 ok ma quel design a giorno d'oggi non funziona più fa ridere è bruttissimo come avete come avete detto giustamente in live le giunture del collo le articolazioni del collo e delle zampe lo fanno sembrare veramente fin troppo un giocattolo poi questo l'ho detto io il fatto che gli occhi siano appunto i vetri dello space shuttle in cui si trasforma che schifo veramente è uno sgorbio orribile dovevano fare un restyling a Skylinks l'avete fatto a Elite One perché non l'avete fatto a lui veramente brutto il design è proprio brutto è orribile la caratterizzazione invece mi piace molto parte che è diametralmente opposta allo Skylinks originale lo Skylinks originale era noto per essere un personaggio molto modesto che tendeva che quando qualcuno diceva cioè che uno che ha fatto grandissime cose però quando gli dicono wow se è un grande lui minimizza dicendo ma sì niente di che qui invece parte come un arrogante uno che ai tempi chiese ad Alpha Trion qui vediamo Alpha Trion tra l'altro di persona quando era ancora vivo rifiutare di dare la matrice a Skylinks appunto perché dice sei troppo arrogante non sei degno di portare la matrice Skylinks infugliato e si scaglia contro e Alpha Trion appunto lo esilia nell'universo morto e come dicevo prima questo dà la possibilità a Skylinks di riflettere su se stesso di scoprire il proprio vero potenziale ma anche la propria umiltà diventando così effettivamente lo Skylinks umile a cui siamo tradizionalmente abituati quindi in un ottimo modo sei stato fedele al personaggio ma facendolo partire da una base diversa è un concetto che mi piace molto ed è molto interessante appunto vedergli fare da mentore a Optimus dicendogli appunto come dicevo prima devi imparare a superare i tuoi errori eccetera eccetera e alla fine è anche un eroico sacrificio per consentire appunto agli Autobot di fuggire dall'universo morto è un personaggio che appare in una sola puntata ma in quella sola puntata è caratterizzato molto bene ha un arco narrativo piccolo ma completo e mi è piaciuto veramente tanto Skylinks veramente promosso una delle migliori new entry di questa stagione e non posso che essere soddisfatto a parte appunto per il design orribile tra l'altro nella giura era anche un po' strano perché come vedete ha ste varie forme che in teoria la sua forma principale si può dividere in una di felino in una di uccello ma per come era rappresentato nel cartone ne aveva solo una alla volta non è che si divideva in due spariva una parte e restava solo l'altra la trasformazione di Skylinks non è mai stata molto chiara nemmeno all'interno delle continuity stesse se dipendesse da me io farei semplicemente uno Skylinks che da sciatto si trasforma in questa sorta di dinosauro uccello quadrupede e basta opportunamente ridisegnato e via che comunque è un design molto interessante un transformer bestiale ma civilizzato cioè capace di proferire parola normalmente non come i dinobot che parlano ma è Grimlock distrugge Decepticon quindi in sé è un concetto interessante ma è espresso così proprio no tra l'altro effettivamente un transformer bestiale che vuole essere il capo praticamente qui prende come caratterizzazione il ruolo di Grimlock solitamente lui il transformer bestiale che si ritiene più adatto al comando rispetto a Optimus quindi qui l'hanno visto che qui i dinobot non li avremo hanno trasferito la cosa a Skylinks e ripeto per come l'hanno sviluppato ci sta quindi Skylinks assolutamente promosso è infine interessante notare come Skylinks nella G1 fosse l'unico autobot presente alla resurrezione di Optimus Prime che ricordiamo nella G1 Optimus Prime è morto nel film animato dell'86 che faceva da ponte tra la seconda e la terza stagione e nell'ultimo episodio della terza stagione chiamato proprio Il ritorno di Optimus Prime tra l'altro diviso in due parti Optimus Prime effettivamente fu riportato in vita perché i bambini all'epoca non accettarono la sua morte continuavano a chiedere che tornasse e alla fine la Hasbro dovette capitolare appunto fu riportato in vita da un Quintenson per restare in tema e l'unico autobot presente in quel momento perché gli altri non c'erano per questioni che non sto qui a spiegare era per l'appunto Skylinks quindi è interessante che l'unico autobot che abbia visto Optimus rinascere nella serie originale diventi qui una sorta di maestro che lo aiuti in una sorta di rinascita spirituale molto carino come tocco ma finora ci siamo cullati nei buoni sentimenti e nell'idealismo degli autobot ora invece stiamo per entrare nei territori ostili dei Decepticon ovviamente con i Decepticon partiamo da Megatron che io avevo definito nella prima stagione la miglior versione quanto meno animata del personaggio non potendo fare molti confronti con i fumetti e qui confermo veramente questo Megatron è straordinario a livello di caratterizzazione è effettivamente superiore a Optimus sebbene a livello morale ovviamente no che dire già la prima già quando entra in scena è meraviglioso cioè lo vediamo che sta parlando con qualcuno e scopriamo che non sta parlando con un Decepticon sta parlando con la testa amputata di Ultramagnus che è già una roba inquietantissima che come aspettavo ci sentisse sotto Psycho perché ricordiamo che in Psycho se era il killer di turno aveva un certo scheletro mummificato a cui parlava cosa poi tra l'altro anche ripresa in MN13 con lì una testa quindi Megatron cattivo da Finn Slasher incarnazione interessante e inedita bisogna dirlo e che comunque al di là del creepy che emana ti fa capire quanto Megatron è solo cioè non si fida non ha un vero rapporto di amicizia con i suoi sottoposti cioè lui sta parlando a Ultramagnus che era suo amico da prima che iniziasse la guerra cioè alla fin fine tutti i suoi amici Megatron se li ha lasciati dietro quando è diventato cattivo Elita Optimus Ultramagnus tra l'altro chiama a un certo punto Elita Ariel anzi in più di un'occasione e Optimus a un certo punto lo chiama Orion ovvero Orion Pax che erano le due identità che Optimus ed Elita avevano nella G1 prima che iniziasse la guerra tra l'altro in quel caso erano stati poi riformattati come Optimus ed Elita dopo un attacco di Megatron sicuramente non è successo così in questa continuità però comunque è come se Megatron sotto sotto gli mancassero quei quei momenti forse non vuole uccidere Optimus anche perché sotto sotto una minima scintilla di lui una piccola parte della sua scintilla gli vuole ancora bene sebbene nella maniera malata in cui può voler bene Megatron potrebbe anche darsi e oltre a quello vabbè l'altro momento incredibile è lui che va nel settore 12 perché gli è stato detto guarda bisogna spegnerlo perché dobbiamo sfruttare il progetto Nemesis cosa sarà mai questo Nemesis sarà mica l'astronave a cui vanno a bordo i Decepticon si ovviamente non può che essere quella e cosa succede Megatron non lo sa perché comunque si tratta di uccidere altri Decepticon va nel settore 12 c'è questo Decepticon zoppicante che lo accoglie oh Megatron or Megatron sei qui oh non siamo degni di te insomma proprio un'ammirazione che ricorda quella che appunto gli autobotano nei confronti di Optimus ma qui decisamente più ma riposta tra l'altro da quel che ho capito tale Decepticon viene chiamato Shumble quello che appunto fa il chinaggio a Megatron lo dico qui è inventato appositamente per la serie quindi non ho molto da dire a parte che appunto gli dice ah noi noi facciamo del nostro meglio noi ci impegniamo chiunque può ancora muoversi le dà una mano Lord Megatron quanti siete produttivi attualmente siamo produttivi solo al 12% ma quando ci saremo un po' rimessi arriveremo al 22% vedi Megatron che se ne va con Shumble e gli altri che lo salutano ah Megatron che bello che bello e subito dopo Shockwave disabilita il settore 12 non lo dice freddamente come se un po' gli dispiacesse e quindi da un lato sei portato straordinariamente a empatizzare per Megatron che sta facendo una cosa dolorosa per lui però dall'altro lato pensi ma pezzo di merda lo sai che è una cosa brutta e la fai lo stesso cioè dici tanto ah lo faccio per i deserti voglio salvare Cybertron e poi non esiti a condannarne a morte chissà quanti nel momento in cui vedi che non sono più produttivi vaffanculo cioè veramente è inumano a dei livelli assurdi questo Megatron pur facendo quello eh no è colpa mia Optimus fa casin è tutta colpa di Optimus ha fatto lui il casino adesso io ne pago le conseguenze ciccio se non decidevi di usare l'Allspark per riformattare gli Autobot non succedeva un cazzo quindi è tutta colpa tua lurido schifoso bastardo e ripeto per questo che è un Megatron fantastico perché un po' ti dispiace e poi ti ricordi no aspetta ma questo è un pezzo di merda ma vaffanculo è proprio uno di quelli che prova a convincerti no non è colpa mia sì lo è Megatron è tutta fottutamente colpa tua come ti dice Scorponok sei stato schiavo dei Quintenstone eppure ora sei esattamente come loro sei diventato ciò che avevi giurato di distruggere sì la dovevo dire è veramente un Megatron appunto straordinario che poi appunto acconsente al al progetto Nemesis con Elita che lo guarda schifato come dire ma davvero tu acconsenti a questo e appunto Megatron ha anche dei conflitto con Shockwave riguardo alle emozioni ma lì ci arriviamo appunto quando parliamo di Shockwave e c'è Megatron che dice eh io faccio ciò che è necessario per sopravvivere sì sì ormai Megatron quasi se la canta a se stesso ma viene da chiedersi ci sarà un momento in cui potrà redimersi lo sto chiedendo perché si continua a dire forse tutti meritano la redenzione anche Megatron bisogna un po' vedere secondo me per come la vedo io tutti meritano una possibilità di redimersi tutti possono ma non tutti accolgono questa possibilità quindi io mostrerei dei Decepticon che si redimono e alcuni che non lo fanno e quindi ne pagheranno il prezzo in maniera tragica tra cui appunto lo stesso Megatron preferirei evitare sinceramente una redenzione per lui ma staremo a vedere magari poi nella terza stagione se succede la mettono giù bene e quindi riesco a farmela piacere per ora su carta mi varrebbe da dire no ma a parte questo resta appunto un Megatron straordinario vedremo ora cosa combinerà con la matrice se riuscirà a combinare qualcosa con la matrice perché non è stata assegnata a lui di primo Akito e si ci sarebbe un suo rapporto con un certo personaggio ma quello lo lasciamo alla fine del video come chicca finale parliamo invece beh adesso di Starscream che è sempre Starscream ovvero quest'essere viscido in maniera veramente disgustosa anche per gli standard di un essere viscido che quando Megatron sembra morto comincia a dire oh che peccato è finita un'era ma adesso inizia quella nuova io Starscream vi condurrò tutti in un futuro più rosio si crediamoci tra l'altro poi Megatron arriva sorretto da Optimus c'è Starscream che dice ma guardatelo questo si è unito agli Autobot che sono i nostri peggiori nemici è un cazzo di ipocrita si mette a fare una sua ringa infilando anche alcune frasi che citano il film d'animazione dell'86 in cui ricordiamolo Megatron spara Optimus ferendo la morte Optimus di contro dà un colpo a Megatron che lo ferisce anche lui gravemente e mentre desertico stanno tornando su Cybertron Starscream lo butta fuori dall'astronave perché ormai è praticamente mal ridotto e inutile e c'è Megatron che prima di essere buttato fuori gli dice aspetta io funziono ancora e anche qui Megatron dice io funziono ancora e poi gli spara o prima gli spara e poi dice funziona prima gli spara e poi dice io funziono ancora tornerà cioè e anche qui no ci si è sempre chiesti nella G1 ma visto che Starscream palesemente vuole prendere il comando perché Megatron non lo uccide da bravo dittatore e il punto era sempre che Megatron sostanzialmente voleva un Pungin Ball perché si divertiva a tormentare Starscream qui alla luce anche del fatto che non ha molti amici Megatron forse perché comunque con Starscream ha una sorta di strano legame quindi non vuole sbarazzarsi di lui teoria mia però potrebbe potrebbe anche essere che poi Starscream da bravo stronzo esce fuori cioè torna alla Nemesis sparate all'astronave Megatron ormai è morto quindi fate esplodere tutto poi ovviamente Megatron sopravvive ritorna fuori lo butta giù dal punto di comando e gli dici ma pensavi davvero che il mio equipaggio si sarebbe alleato con te così di punto in bianco effettivamente non è propriamente andata così e quindi Starscream viene giustamente rimesso al suo posto e tra l'altro è comunque divertente quando all'inizio della stagione porta a Elita e gli altri la resistenza degli autobod a Megatron è lì che vorrebbe farsi dare un 5 ma Megatron lo ignora e c'è lì Starscream che comunque è lì triste mojo mojo oh sei quasi tenero no in realtà poi come ci hanno giustamente ricordato nella prima stagione Starscream sarà sempre il most inferior frase pronunciata da Soundwave e parliamo appunto di Soundwave in questa seconda stagione veramente tenuto in sordina non che nella prima avesse chissà quale spazio ma qui veramente dei quattro deserti con principali ovvero Megatron o Starscream Soundwave stesso e quello di cui parliamo tra poco è veramente quello proprio tenuto più a freno qui tra l'altro mi ha stupito che non dica una parola quando Starscream dice ora prendo il comando di Megatron certo appena viene fuori che Megatron è ancora vivo Soundwave va subito a soccorrelo come a dire che la sua fedeltà è verso Megatron però insomma poteva protestare un minimo contro Starscream posto che c'è da dire ecco protestare per prendere lui il comando no perché anche se l'aveva fatto nel film dell'86 Soundwave non ce lo vedo molto come uno che voglia assumere la carica di leader completo dei deserti con almeno per come ho sempre inteso io il personaggio poi nulla le sue interpretazioni anche perché ci sono varie versioni Soundwave l'ho sempre visto come uno che comunque è bravo a eseguire gli ordini magari ha un alto rango ma essere proprio il leader supremo non ce lo vedo tantissimo non lo so questa è una impressione mia ditemi voi nei commenti cosa ne pensate tra l'altro in questa serie scopriamo anche che è un ottimo linguista in quanto riesce a tradurre delle cose che Willjack non riesce effettivamente a tradurre il che quindi è molto è molto interessante ed effettivamente Soundwave è veramente la risorsa desepticon più tolta agli autobot sarebbe veramente utile se passasse dalla loro parte purtroppo la cosa non credo avverrà mai quindi che dire se la vi Soundwave comunque per quel poco che fa ci sta per carità quindi comunque promosso come anche Starscream eccetera però insomma dispiace vedere uno dei desepticon più importanti con così poco spazio decisamente maggiore ne ha Shockwave che appunto lavora al progetto Nemesis ovvero appunto creare questa astronave solo che serve dell'energon e quindi per farlo prosciuga le scintille sia di autobot che di desepticon come dice lo stesso Megatron l'astronave nata dalle scintille di mille autobot e Shockwave aggiunge e desepticon c'è appunto Megatron che dice a Shockwave sei fortunato a volte invidio il fatto che tu non provi emozioni e Shockwave rimuovere le mie emozioni per essere più efficiente era la cosa più logica da fare certo poi lasci il bisturi davanti a Elita così che lei possa prenderlo con la bocca e usarlo per liberarsi cosa che poi in effetti sembrano riuscirle quindi ok però a parte questo insomma Shockwave si conferma qui lo scienziato cinico che non esita nella prima stagione a dire riformaziamo tutti gli autobot con l'Ospark a cui prosciughiamo il più desertico possibile per fare la Nemesis veramente Shockwave ma te c'hai il genocidio come chiodo fisso in testa mio caro e tra l'altro tornando alla questione del represso le sue emozioni era la cosa più logica reprimere le mie emozioni per essere più efficiente tra parentesi anche perché con la faccia che ho come cazzo facevo a mostrarle pur avendole quindi va bene così il suo confronto finale con Elita ha senso perché nell'episodio in cui apparivano le fembo della G1 intitolato alla ricerca di Alpha Trion perché si appariva anche Alpha Trion per la prima volta in quell'episodio si vedeva che Shockwave essendo quello che controllava Cybertron mentre Megatron era via cosa che appunto succede anche qui dalla caccia alla resistenza delle fembo comandate da Elita quindi effettivamente qui ritroviamo questa cosa mi ha un po' stupito vedere che aveva inventato l'occultamento perché mi veniva a dire ma scusate di solito quello invisibile Mirage l'abilità di Shockwave avere il mega cannone distruttivo al posto del braccio e di essere iperlogico ipercalcolatore eccetera dove è uscita fuori la cosa dell'invisibilità però in effetti non vi è spiegato bene come l'ha ottenuta però ti fanno vedere che è un'abilità che ha dato anche ad altri Deserticon quindi insomma è veramente un'invenzione da usare nel corso della guerra Elita riesce comunque a tenere di testa anche tramite alcuni tocchi d'astuzia ma alla fine Shockwave riesce a sconfiggere tramite l'invisibilità non ho capito bene perché l'abbia legata lì io pensavo oddio adesso la sottopone a chissà quale esperimento ma almeno per ora sembra di no vedremo appunto se questa cosa verrà proseguita nella prossima stagione comunque insomma Shockwave veramente bastardo di prima categoria come è giusto che sia il fatto che contesti un po' Megatron viene da pensare forse a un certo punto cercherà di prendere il comando perché nella G1 cartone non lo faceva ma in alcune continuità fumettistiche gli è venuto lo schiribizzo di prendere il comando al posto di Megatron non a caso ricordiamolo che in Transformers 3 in cui faceva delle apparizioni molto brevi era stato detto in campagna di marketing che lavorava con Megatron ma non si fidava molto di lui e che forse l'avrebbe tradito poi in realtà chi ha visto il film sa che in realtà era Sentinel Prime ad avere questa caratterizzazione però cosa hanno fatto furbescamente nel film hanno dato questa cosa a Shockwave perché alcune volte ha avuto questo tratto distintivo per sviare dall'effettivo cattivo di quel film che era appunto Sentinel quindi appunto in questo caso vedremo Shockwave fare questa cosa solo il tempo ce lo dirà nel frattempo comunque Shockwave promosso e la cosa del riformattare o cioè comunque di usare Decepticon per fare la Nemesis può essere considerato un riferimento al videogioco Transformers Fall for Cybertron perché in quel caso cosa succedeva c'era una missione nel gioco in cui tu come Megatron dovevi andare a recuperare i resti di Tripticon questo gigantesco Decepticon simile a un dinosauro e c'era Alessandro che diceva adesso lo possiamo riparare e Megatron no non ripararlo lui ha fallito e quindi come punizione non lo ripariamo ma lo riformattiamo per creare la Nemesis qui non è che riformattano un Decepticon Megatron e Shockwave fanno intere celle in cui usano la loro stessa gente per effettivamente dare vita dare energia alla Nemesis diciamo che a livello di numeri il Megatron di là di Fall for Cybertron era meno bastardo perché lì era solo un Decepticon però lì era molto più non emotivo appunto alla Shockwave Tripticon hai fallito vai a cagare qui invece Megatron si dà qualche scrupolo però come ho detto perché ti versi è quasi peggio cioè hai degli scrupoli sai che stai facendo delle merdate ma le fai comunque complimenti Megatron veramente applausoni Shockwave invece appunto come avevo visto ma sì chi se ne frega sono senza emozioni e appunto no Shockwave uno dei Decepticon più vicini a Megatron ma non ci può parlare con lui perché appunto è senza emozioni pure Soundwave è molto leale ma non è sto gran maestro delle conversazioni e quindi ci sta che Megatron sia la disperata ricerca di un qualche legame e quindi voglia Elita Optimus dalla sua parte solo per gli avere qualche vecchio amico parli alla testa di Ultramagnus veramente un personaggio tragico Megatron ma non per questo meno stronzo ritroviamo poi dalla precedente stagione Skythread Decepticon che all'inizio nella prima parte della stagione aiuta Elita i suoi autobot a scappare perché non è d'accordo col progetto Nemesis ma appena Shockwave offre il potere dell'invisibilità non esita ad attaccare appunto coloro che prima aveva aiutato per poi essere ucciso da Cromia con lui tra l'altro che dice no aspetta io ti ho aiutato ma Cromia non lo ascolta e gli spara in testa perché si l'avrai anche aiutata ma adesso hai cercato di uccidergli quindi mio caro stronzo ti meriti di morire mi dispiace Guita la sei proprio cercata tutti meritano una chance lui l'ha avuta non l'ha accolta e quindi sono anche un po' cazzitone a un certo punto sempre i tre deserti con invisibili compare anche Spinister che era stato appunto insieme a Skythread nella prima stagione e compaiono con ruoli veramente marginali anche Ravage Barricade e di nuovo Astro Train che aveva avuto un camion della prima stagione ha un camion in questa e non fa un cazzo ma gli facciamo fare qualcosa sto poveraccio per l'amor del cielo vabbè abbiamo poi vari altri deserticon generici abbiamo molti Seeker se ne vedo ad esempio uno verde che è chiaramente Acidstorm abbiamo poi alcuni repaint di Impactor mi manca Impactor eri tanto bello e un sacco anche di repaint di Reflector tra l'altro sulla Nemesis con Megatron e gli altri si vede proprio un Reflector viola classico ricordiamo che nella G1 i Reflector erano questi tre desertico che si univano assieme per formare una macchina fotografica chissà perché non li comprava nessuno e quindi sono durati pochissimo nello show ma chi lo sa infatti anche qui sono deserti congenerici ed è anche guardate è un ruolo migliore di quello che avevano nella G1 effettivamente c'è però un repaint degno di nota di Reflector che è Scrapface ovvero il Deserticon che guida diciamo quelli che sono stati liberati da Elita nel primo episodio appunto Elita libera di Deserticon e questi poi si alleeranno con gli Autobot e cercheranno di aiutarli anche se alla maniera di Deserticon con infatti Elita che dovrà dire loro ragazzi se non ve lo chiediamo noi voi non sparate smettetela di fare i Deserticon e tra l'altro è bello che come Mirage si era stupito entrando nel centro medico di Ratchet nella prima stagione di vedere che lui riparava sia gli Autobot che i Deserticon anche qui abbiamo appunto Scrapface che non credo sia il suo vero nome ma è come viene soprannominato perché appunto è tutto pieno di graffi in faccia comunque appunto Scrapface dice curate sia gli Autobot che i Deserticon ci si stupisce molto in guerra di questi atti di bontà ed è una cosa che io apprezzo molto di questa serie che mostra appunto anche la possibilità di essere buoni dentro la guerra e quindi appunto come dicevo prima mostra qui anche come forse si può vincere la guerra non massacrando proprio tutti i Deserticon ma mostrando la bontà degli Autobot e convincendo alcuni Deserticon a passare dalla loro parte cosa che succede anche con appunto la stretta di mano tra Scrapface ed Elita vedremo se torneranno anche nella prossima stagione e mi piacerebbe vedere sviluppato il caro Scrapface veramente sarei proprio curioso e non potevo non chiudere questa recensione nerd con la chicca anzi le due chicche visto che la prima se ne porta dietro una seconda ovviamente sto parlando di Galvatron proprio così quella che solitamente è la versione potenziata di Megatron qui è un personaggio diverso forse probabilmente no perché dal modo in cui parla e da alcuni discorsi che fa è abbastanza evidente che siamo di fronte ad un Megatron venuto dal futuro riprendendo quindi quello che era successo se non sbaglio nei fumetti pubblicati dalla Marvel in cui appunto l'incontro tra i due avveniva proprio con questo tipo di dinamica in questo caso Galvatron entra in scena nell'episodio dell'universo morto con una grafica che ricorda quella con cui era entrato in scena nel film animato dell'86 anche se in questo caso ovviamente non vediamo la trasformazione di Megatron appunto in Galvatron e si offre di fare da maestro a Megatron come Skylings fa appunto con Optimus solo che ovviamente gli insegnamenti che Galvatron impartisce a Megatron sono un pochino diversi da quelli di Skylings infatti Galvatron gli dice non ti fidare di nessuno il potere è tuo devi riuscire a incanalarlo discorsi molto tra l'altro alla Palpatine di Star Wars usa l'odio che è in te passa al lato oscuro o meglio faccia ancora più a fondo visto che non è che sia proprio uno sticco di santo Megatron in questo momento quindi insomma è interessante appunto sia perché c'è appunto il parallelismo tra Optimus e Megatron che hanno entrambi dei consiglieri anche se lasciatemelo dire mi fa un po' ridere che Megatron non abbia mai un sospetto perché quando poi Galvatron gli mostra dei flashback di quando lui era un gradiatore nell'arena dice questo è il luogo in cui entrambi abbiamo acquisito potere entrambi ok c'è Megatron che dice vedo che tu capisci sì Megatron dai ti capisce benissimo hai i tuoi stessi ricordi pur con delle voci diverse l'inflessione vocale è la stessa avete entrambi un cannone sul braccio destro su per citare Klaus abbiamo iniziato a unire i puntini dai su Megatron arrivaci arrivaci che quello sei tu dal futuro versione di Galvatron dal futuro che tra l'altro dice che è venuto lì per interrompere quello che succederà in futuro che mi verrebbe da dire appunto ovvero essere asservito a Unicron perché a un certo punto sbuca fuori Unicron che qui appunto è ancora il padrone di Galvatron che lo ritrascina nel proprio tempo anche se prima di andarsene Galvatron lancia a Megatron il disco d'oro che ricordiamo era il manufatto al centro di Beast Wars quantomeno all'inizio insomma era per quello che i Predacon venivano inseguiti dai Maximal all'inizio della serie quindi appunto è un collegamento alla terza stagione in cui appunto avremo a che fare con Kingdom e viene quindi da chiedersi ma che cavolo è successo la teoria più accreditata è che nella continuità di questa serie Optimus sia fuggito dall'universo morto ma Galvat ma Megatron è arrivato Unicron e lo ha liberato trasformandolo in Galvatron e da quel momento è suo schiavo e quindi Galvatron riesce a tornare indietro nel tempo nell'universo morto per consentire al se stesso del passato di fuggire con le proprie gambe dall'universo morto ed evitare quindi di finire schiavo di Unicron ma questa è soltanto una teoria tra l'altro viene da chiedersi ma quindi la War for Sabaton Trilogy si pone in una sorta di semicontinuità con la G1 o comunque in una continuità molto simile perché ricordiamo che durante le visioni di Optimus in Skylinks si vede Optimus morto esattamente come nel fin dell'86 quindi quegli avvenimenti sono effettivamente avvenuti quindi intanto viene da chiedersi ma quindi Megatron è fuggito è successa la stessa cosa invece del fin dell'86 poi ha incontrato Unicron e siamo sempre lì è un po' difficile capire come le cose si sono svolte qui non so neanche se avremo prima o poi una risposta perché credo che il futuro sia stato cambiato quindi non avremo mai la certezza di cosa sia successo a Galvatron almeno credo e tra l'altro parlando di futuro Optimus vede anche brevemente se stesso con gli occhi rossi come se fosse Nemesis Prime è anche quella una visione del futuro o come ha ipotizzato il buon Calamato durante il Watch Together è la grande paura di Optimus ovvero diventare come Megatron che non è così scontata perché il punto è che Megatron appunto è diventato come Quintestone cioè come colui che combatteva quindi Optimus ha paura che ci sia questa sorta di ciclo infinito di buono che sconfigge il cattivo e poi diventa cattivo egli stesso un po' quello che succede anche nella vita vera con dittatori che vengono deposti e poi coloro che hanno deposto il dittatore diventano dittatori a loro volta comunque insomma veramente questa sorta di rapporto col futuro che non so se verrà mai più esplorato è interessante posto che in teoria se in Kingdom avremo a che fare con i Maximal i Maximal e i Predacon sono versioni sono discendenti dal futuro di Autobot e Deserticon ancora più in là di Galvatron che però sono finiti in una terra preistorica del passato quindi cosa sta succedendo il tutto effettivamente riuscirà a ricollegarsi perché comunque hanno solo 6 episodi ormai è chiaro che anche Kingdom avrà soltanto 6 episodi a me che non abbiano deciso per l'ultima stagione di farne un paio in più ma credo sia una speranza vana e che è un peccato perché come dico sempre questa serie è troppo compressa l'ho detto anche all'inizio di questa recensione nerd ma a parte questo c'è da dire che comunque Galvatron per quel poco che si vede è fantastico appunto questo personaggio venuto dal nulla che noi possiamo intuire appunto chi è e che rende Megatron peggiore di quanto non sia già appunto dicendogli il potere è tuo devi solo afferrarlo veramente veramente ben fatto quindi che dire una serie che mi ha molto soddisfatto in generale a parte appunto qualche piccolo problemino qua e là un paio di forzature e il fatto appunto che sia troppo breve ma io non posso che essere contento adesso vediamo un po' cosa ci combina Kingdom speriamo che risulti ancora meglio di questa seconda stagione che già effettivamente è meglio di assedio detto questo la recensione nerd di questa seconda stagione direi che può finire qui grazie per averla seguita come sempre se vi è piaciuta mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate in descrizione troverete anche il link alla mia pagina facebook e al mio profilo instagram io ho detto questo vi saluto ovviamente come sempre con il saluto universale va a whip grana whip nini bon